bella a tutti ragazzi e bentornati al mio canale sono Dallo97ization e sono qui quest'oggi con questo video per iniziare diciamo una nuova no un nuovo guardate bene la mia auto allora oggi andremo a fare quest'oggi le 50 accorobazie folli certo non tutto in un solo video ma in vari episodi e andiamo subito non me ne frega una minchia delle emissioni che ci sono online sinceramente che devo andare a fare questa meravigliosa cosa allora io quando faccio il frattempo che arrivo nel posto in dove dove devo arrivare mettete un like e iscrivetevi al mio canale perché ne ho veramente bisogno allora qua ci dovrebbe essere eccolo questo qua è il primo tempo se riesco boh ci sei riuscito the best ok eccoci qua ragazzi forse dovrebbe essere questo eccolo qua eccolo qui si questo ci prepariamo o le sbama niente partiamo da qua partiamo da qua partiamo da qua oh dai 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 no sì e vai ha fatto sì 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 c'è una macchina un po' a scassare però l'ho fatta dai un attimo solo la riga mangio sto attimo la mia becassi vacca guarda che schifezza sbam grazie ciao bello ciao ciao eccolo qua e questo questo qui ragazzi andiamo con la città dietro 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 andiamo acrobazia riuscita questa è la terza quindi se non avete capito dov'è scrivetemelo con un commento poi vi faccio vedere con un video più applicativo praticamente ah no no eccola non è la sua spiaggia sta qua su questa strada eccola là questa mettiamoci giù 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 ecco un giù un giù un giù motore che bug assurdo non c'è più il motore quindi in teoria manco dovrà accelerare invece accendere lo stesso eccola no 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 ma no programmi dietro fatta cd riuscì il frattempo a te ma che sono sexy arimetti di costa poi 10 oltre sono troppo fico distanze ok sembra che questa può abbassare andiamo incliniamoci davanti per prendere in maggiore velocità oh dai vai 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 niente niente oh dai ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ce l'ho fatta sì ecco io ragazzi diciamo che ho finito spero che questo video vi abbia pensato di vostro gradimento lasciate like iscrivetevi al mio canale e bella